Gli scambi commerciali sempre più globalizzati possono essere favoriti dalla rapidità delle procedure doganali, dall'affidabilità degli operatori economici e dalla tutela dei marchi di origine. Tutti questi obiettivi garantiscono alle aziende un'adeguata presenza sui mercati, oggi più che mai necessario per il loro successo. È fondamentale soprattutto in questo territorio perché abbiamo un sistema industriale che è fortemente internazionalizzato, per cui noi abbiamo avviato un rapporto già da qualche anno con l'Agenzia delle Dogane, sia nazionale che regionale, di grande collaborazione, prima di tutto nella lotta alla contraffazione e poi anche un protocollo di collaborazione per così interpretare e capire meglio la normativa che è certamente complessa, quella riguardante le Dogane. La lunga crisi recessiva che è in atto, ormai da circa due anni, ci ha portato a rafforzare ancora di più il rapporto, le modalità del rapporto che abbiamo stabilito da anni con l'Unindustria di Treviso come con le associazioni sul territorio. Ma questa con Treviso è stata un po' la prima e la più, diciamo, con slancio che abbiamo fatto. Unindustria Treviso e l'Agenzia delle Dogane allora hanno siglato accordi per semplificare gli scambi commerciali del Made-in, in grado di garantire ai marchi d'origine la possibilità di viaggiare con sicurezza. E qui la posizione di Confindustria è finalizzata certamente a valorizzare e a tutelare le produzioni italiane e quindi una corretta posizione del marchio Made-in, allo stesso tempo anche richiamando l'attenzione del legislatore e delle istituzioni sulla necessità anche di valorizzare, di difendere quelle aziende che per scelta o per necessità, stante la dinamica competitiva del proprio settore, sono state costrette, sono state chiamate a darsi un'organizzazione produttiva anche di carattere internazionale, però portando in ambito internazionale dei saperi, delle conoscenze.